Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con i miei amici alcuni e il mio amico Staffo lo scherzo, l'ho buttato comunque raga Ok raga, si lui è Nabbo, comunque può vedere per davvero Nabbo Ma se ti spara con il cecco Gioca piano con lui, eh che è Nabbo Ti colpi il cosco io da lontano, giocate piano con il calciatore perchè ancora è Nabbo No con Mohamed Eh si con Mohamed scusa Bravo A te ti piace mai Bravo Ma lui è... Ma lui è... Non mi... Si è fatto uccidere o da un Nabbo Eh vabbè Eh vabbè Ma sei... Calciatore si è Nabbo, ti sei fatto uccidere però che lo da un Nabbo Sì 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 Ti uccido Sì 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 Ma come si è fatto? Ma hai... E' eeeh ora siamo a vicino anche per il CD e dai si trovate un amici uno da un brazzo e dai uffa uffa attento guarda calciatore si è parato a costruire no Mamed si è parato a costruire bravo DG per Mamed qui le mani in base ma ti sparo anche ora lo aiuto lo aiuto niente ok non l'aiutare devi fare lui raga lo scherzo sta funzionando bene cosa succede ma sta tutto ah ah bravo volevi no guarda guarda ah ah no 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 ma 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 adesso che adesso sta giocando capito no quindi un po' ah 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 non capisco cosa stai a dire ah 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 vado a farmi la doccia calda faccia una doccia calda ci sono una tabulata, la mattina vado a farmi la doccia calda guarda vai su io la controllo metto lo scherzo, 2 secondi ma calciatore se ti devi riscaldare vado a fare una doccia calda o butti del mio cucano e quello ti riscaldi eheh per la prima cosa che è il tuo striscio sitato si chi ti può dire che potrebbe fare la 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 prima la 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 ma non lo so tutti contro tutti io sono fatto tutti contro tutti quindi io ci do l'acqua a chiunque vedo uffa uffa attesa uffa prima del wide prima di certo allora e poi che da alb calciatore e eh mettila a riscaldare mettila a riscaldare a cazzo di stufa ecco bravo bravo vabbè qua ti faccio riscaldare io con il fucile e di l'ho sperato forse l'ho fatto riscaldare c'ha poca vita ma che ti prende gli attacchi ha giusto 7k rudol c'è che è il baraggio fatto la puntata per toccare la casa bravo vedi c'è ecco 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 non la boccia tanto bella raga e lo scherzo sta funzionando raga ok questo fa il video ancora io sai che ti posso colpire a chiudo a due metri vado a prendere un rampino io in questa casa vicino andata ma la sera chissà come chieda è vero che sono alla ghiera eh sono andata a livello tuo perchè io ho fatto io una partita ma invece no c'è questa qualità perchè lui è andato a casa il tuo pericolo e ha giocato un po' a schermo di viso eh ha schermo di viso ha schermo di viso ha schermo di viso si può giocare ma la bella si è vero si può giocare io c'ho giocato con il oh guarda look di un pezzo di verde guarda il divino che c'è con quel cecchino c'è ma c'è un calciatore no sono tutti che cacciano gli animali in questo caso si sta cacciando i nub siccome non ce la fa il nub è troppo forte e poi dopo lo prende a cacciare il culo se ce la fa bella questa eh usate bene le parole raga ma guarda si è messo anche visibile eh l'ho uccido lo stesso con il cieco ne ho fatto edici o treccato qualcosa ecco bravo ecco bravo ecco guarda ci è curato che è questo calciatore vieni ti devo calciare siamo migliore amici eh ok il calciatore lo devo calciare il calciatore ti devo calciare eh raga comunque non ci vedo prima prima c'è tutto tutto fosse tutto fosse sempre ma dai su tutto il calcio principale c'è tu quando si deve poi era la loro esame che se penavano c'hanno 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 io lo sapevo già perchè già poi me l'hanno fatto e già sapevo che stavano a fare la finta perchè già uno si vede con 2 bill e spara raga aspettate non ci vedete ok ora ancora no ok ora si se la mia figlia è stata bella mi piace se la mia figlia è stata bella mi piace se la mia figlia è stata bella è stata bella se la mia figlia è stata bella se la mia figlia è stata bella come dire una cosa qua io mi invece ho una figlia e l'ha messo oddio e va e basta non posso ma non è piante ma vai secondo me uno guarda le spalle ma mi ha fatto dare no comunque raga aspetta aspetta io devo farla intro e vabbè comunque ragazzi il video si finisce qua questo è stato uno scherzo bellissimo ciao raga ci vediamo al prossimo video